Dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli, pregando, non spiegate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole, non siete dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno, prima ancora che gliene chiediate. Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le vostre colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà a voi le vostre colpe. Oggi il Signore ci dice cosa dire al nostro padre, come parlare con lui, la sua preghiera, la preghiera del Signore, e ci mette in guardia, perché i pagani, che hanno molti dei ma nessun padre, sprecano parole per pregare, pensando che le proprie parole possano in un certo modo piegare il cuore della divinità, dell'idolo, ai propri desiderata. Le cose non vanno così. Io sono in Giappone dove vai ai tempi e vedrai che suonano le campane, battono le mani, perché in un certo senso bisogna svegliare la divinità, no? Non esiste padre, Dio non è un padre, il Dio è qualcosa di totalmente altro, è qualcosa che è al di là, più potente della natura umana, che può intervenire, può interferire nelle vicende umane, ma non certo come un padre, quindi bisogna in un certo senso ringraziarcelo, bisogna fare delle offerte, eccetera. Per questo sprecano molte parole, per questo sprecare molte parole, in varie circostanze, è indice di paganesimo, è indice di idolatria. Non è con le parole nostre, umane, che raggiungiamo il cuore di Dio, fino a che lo aprono. Ciò che apre il cuore di Dio è un cuore umile, un cuore contrito, tale quale appare nel Vangelo di oggi. Un cuore contrito, umiliato, spezzettato, di chi sa di essere il figlio di Dio, e di chi nella Chiesa ha trovato questa stanza intima, questo segreto della propria realtà, dove poter dialogare con Dio. E guarda, è bellissimo quello che ho scoperto, che sono tuo figlio, che sono stato creato da te, ma non ce la faccio, non ce la faccio papà, papà non ce la faccio. Il padre nostro è questo innanzitutto, è la preghiera umile, perché autentica, di chi desidera essere secondo la sua volontà, cioè la persona meravigliosa, perfetta, nella sua debolezza e fragilità, che però è invasa dall'amore di Dio, è invasa dall'amore del padre, per questo può vivere amando, amando il nemico, amando chi li fa del male, chi lo perseguita. E siccome questo non lo possiamo vivere così, tutti noi siamo stati ingannati, e per questo la carne si ribella alla volontà di Dio, la carne vuole obbedire a un altro padre. C'è un'altra preghiera insistente, che preme dentro di noi, perché avvenga il nostro regno, sia fatta la nostra volontà, ci sia dato il pane che noi esigiamo, sia santificato il nostro nome, come accadde a Babele, facciamoci un nome, e costruirono una torre. Il padre nostro, come se fosse il negativo di una foto, descrive la nostra realtà, la realtà del mondo, di chi vive da orfano, e quindi cerca costantemente una giustificazione dagli altri, vita dalle circostanze, che chi crede di essere Dio, deve essere affermato come Dio dal mondo intero, dalla storia, dai fatti, dalle persone, e per il nostro, dai danni del regno, sono Dio, si fa tutta la mia volontà, sono Dio, non vive così, no? Però la parola, la predicazione, che è amore infinito di Dio, ci ha raggiunto, ha illuminato l'inganno, perché tu sei infelice, io sono infelice, perché è una grande fregatura essere come Dio, perché non lo sei, perché non lo siamo, e soffiamo infinitamente, siamo come, ti dà un anello al naso, e poi ci tirano, ci tirano, ci tirano, per fare quello che il demonio decide di fare, vuole che noi facciamo, dice, abita in me il peccato, non faccio quello che vorrei, ma quello che non voglio, dice San Paolo, perché non c'è mai una buona notizia senza annuncio di verità, che Dio ti ama, che Dio ha un'infinita misericordia di te, significa che tu hai bisogno di misericordia, ho bisogno di uno che ha un cuore pieno di compassione per la mia miseria, un cuore capace di rigenerare il mio cuore, se la Chiesa mi annuncia la misericordia, è per collocarmi dove io sono, e annunciarmi, e mostrarmi, e rivelarmi, che lì arriva il manto di misericordia di Dio, Cristo è morto per i nostri peccati, è risolto per la nostra giustificazione, è perché io e te abbiamo così peccato, da non avere più la capacità di vivere come figli, di aver così freggiato la nostra immagine di figli, da dire padre nostro al demonio, e compiere i suoi disveri, nella concupiscenza, attaccamento al denaro, giudizi, liti, le chiacchiere di cui parla sempre Papa Francesco, le chiacchiere, i tettegolezzi, le malvagità, le calunnie, che noi diciamo così frequentemente, è la nostra realtà, di ogni giorno, fratelli, questo è amato da Dio, quello che tu e io siamo, scoprire questo, è scoprirlo nella Chiesa, dove la rivelazione della nostra realtà coincide con la rivelazione dell'amore infinito che Dio ha per noi, che non ti giudica, che non ti butta via, che ti vuole bene, che soffre, è appassionato completamente al tuo destino, lui non accetta che tu e io non viviamo da figli, viviamo da orfani, vendicando un sorriso, scendendo a compromessi assurdi, entrando nel canale del pensiero unico, della moda, per non essere lasciati fuori, per non rimanere ai margini, Dio veramente è sempre di compassione, per l'unicità di ciascuno di noi, così come siamo, ci viene dato un posto dove sperimentare questo amore, dove conoscere il perdono, che è al centro del parale nostro, il perdono, Dio ci perdona, Questa preghiera è la preghiera del Signore, perché il Signore l'ha pregata nel Getsemani, dove con la mia e la tua natura, con la mia e la tua carne, ha detto Abba, questi peccati ci conducono nella morte, non possiamo dire papà, e questo è il vero problema di ogni uomo, che non ha un padre a cui rivolgersi, un padre che ha cura di lui, per questo siamo frustrati, abbiamo lì un grido strozzato dentro, a volte diventa suicidio, quanti ragazzi si suicidano, perché in fondo il demonio li ha convinti che il loro padre non li vuole bene, che non c'è qualcuno di cui fidarsi, che sono stati rifiutati, così come sono, che sono stati emessi da parte, emarginati, a causa del loro carattere, il demonio li ha ingannati così, e si toccano la vita, come ci trovano la vita molte volte tu e Dio, in altri modi, con altre alienazioni, ebbene Gesù nel Getsemani, con la tua carne, con la mia carne, dentro quella carne ha detto papà, questa carne l'ha fatto fare un giro di 180 gradi, ha messo lì dentro, in quella carne impotente a causa del peccato, la parola padre, ha aperto una breccia, ha come iniziato la carne a vivere la figlia, la figlia di Dio, ma questo lo ha condotto alla morte, si è prodotto come un corto circuito, uno scontro frontale, l'uomo vecchio, incapace, ribelle, è l'uomo nuovo, Cristo, e questo ha condotto alla morte, e in quella morte, in quella tomba, Cristo ha lasciato tutto il vereno, ha lasciato l'uomo vecchio, ha lasciato la morte, tu e mia, nella morte ha lasciato l'uomo morto, l'uomo vecchio, l'uomo che era già morto, che è incapace di dire papà, e di fare la sua volontà di amare, ed è risuscitato, ed è venuto da noi a dirci, eccomi, vado al padre mio e al padre vostro, siccome con quella carne, lui ha potuto dire padre mio, e ha avuto ragione del demonio, perché lo ha sconfitto, allora può dire alla maddalena, vai da tutti, e dì che salva il padre mio e il padre loro, in quanto padre mio, in quanto ho detto papà, nel Getsemane, loro possono dire padre nostro, perché è già padre di una comunione, già è padre di fratelli, già c'è una natura nuova, già possono ricevere la natura dei figli che si amano come fratelli dello stesso padre, che sono stati perdonati, graziati dallo stesso padre, per cui è impossibile giudicare, è normale invece perdonare, se io ho conosciuto questo amore profondo di Dio per me, così come sono, se io ho conosciuto questo veramente nella chiesa, nell'eucaristia, nel sacramento della confessione, nella vita con la carne di Cristo che sono i fratelli, se io veramente ho sperimentato che Dio mi ama, così come sono, fatto risuscitare gratuitamente, perché si risuscita solo gratuitamente, solo chi è morto può risuscitare, ma un morto non può fare nulla per risuscitare, quindi è gratuito, quindi non hai fatto nulla, solo sei stato amato, graziato, perdonato, se hai questa esperienza, hai cominciato a muovere i primi passi, di un neonato in Cristo, la vita nuova non puoi giudicare nessuno, perdonerai esattamente come dice oggi la parola e comincerai a gridare, papà, papà, non più il mio regno ma il tuo, papà, che non regni io, che non regni nelle mie idee a casa, in famiglia, al lavoro, nella comunità cristiana, il tuo regno, regna tu, tu sei il re, tuo figlio Gesù Cristo è il regno, è l'amore, è la misericordia, è la pazienza, è la tenerezza, voglio questo signore, non voglio più regnare io, che non regni più il demonio, regno io, regni tu signore, né il demonio né io, tu, il tuo nome non è il mio nome, che sia santificato, cioè che io possa vivere nella comunità cristiana separato, nel mondo ma non del mondo, cioè che sia santificato il tuo nome in noi, in me, nei miei fratelli, nella mia vita, il nome di Antonello, prete, predicatore, non so, l'ingegnere, oppure non so che cosa, no, che sia santificato il tuo nome, la tua presenza dentro di me, dentro la mia comunità cristiana, il tuo nome sia messo da parte, perché il mondo possa capire, sperimentare e vedere che esiste la presenza di Dio, che Dio esiste, dammi oggi il tuo pane, il pane dei figli, che è la volontà di Dio, come dice Gesù, che è Cristo stesso fatto volontà da mangiare, perché mi possa nutrire la mia anima, signore che io non viva soltanto di pane materiale, prestigio, eccetera, no, che io viva del tuo pane, di quello che tu mi dai ogni giorno, dammelo, dammi questo pane che mi permette di dare, che si compie in me la tua volontà e non la mia, in questo Abba, papà, non la mia, ma la tua volontà, lo so, lo so, guarda, oggi c'è un calice terribile da bere, guarda, oggi c'ho questa riunione, guarda, oggi c'ho le analisi, guarda oggi, mamma mia come si è svegliata mia moglie, mamma mia come si è svegliato mio marito, mamma mia mio figlio, oggi ho scoperto che mio figlio è malato, oggi ho scoperto di essere malato io, oggi ho scoperto che mi hanno rubato un sacco di soldi sulla pensione, non lo so quello che sarà oggi, non lo sappiamo, non voglio questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua, donami di bene questo calice, con i tuoi figli, io voglio vivere da figlio, lo voglio, non posso, sono incapace, aiutami e perdona i miei peccati, perdona ancora prima che io li compio, come dicevano molti santi, senza la Teresa Davide per esempio, perdona, cioè aiutami, aiutami a non peccare, fammi spingere fino al limite, sono debole, se tu mi spingi fino lì al limite, nella tentazione, io cado come un cretino, come Adamo ed era, e perdo di nuovo questa dignità filiale, esco di nuovo di casa, aiutami, fammi stare dentro la comunità, nella comunione della Chiesa, che mi salva, perché la figlia della Chiesa vince il mondo, e liberami dal male, dal maligno, da questo veleno, che mi ha distrutto, che ha distrutto la tua natura dentro di me, che mi ha fatto vivere come un vagabondo, come un orfano per tanto tempo, e che oggi mi tenterà per vivere ancora di nuovo all'angolo di una strada a chiedere l'emosina, magari con quel compromesso affettivo, per rubare due soldi in più, o un passo in più sulla carriera, o per fare bella figura davanti a quella persona, proteggimi, proteggimi, difendimi, perché se questo si compie in me, posso perdonare come tu mi perdoni, cioè posso essere immagine e somiglianza tua, perdonare come tu mi perdoni, vuol dire vivere come tu sei, figlio, perché tutti possano avere di nuovo una porta aperta verso il loro destino, chi viene accanto a noi, chi vive accanto a noi, possa di nuovo sperare, al di là delle etichette, le destra, le sinistra, le questo, le quell'altro, no, tutti creati da Dio per essere figli, per vivere da figli, amare secondo la sua volontà, tutti in Cristo possono uscire dalla condizione di orfani per tornare a quella di figli, di Dio, e che camminano guardando al cielo e dicendo costantemente papà, papà, prendimi per mano, abba, papà, tringimi, papà, la tua mano sulla mia testa, abbi misericordia di me, ti voglio bene papà.